Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Come va l'estate? Mi state divertendo? Avete bisogno di prendere un po' di fresco? Di un po' di thriller? Beh, ve lo do io! It, Stephen King Stephen, il grande, fantastico Stephen Vi parlerò di questo libro in cinque parti, ovvero le cinque parti che dividono il libro. Sembra che It, pur essendo nato dalla penna di Stephen King sia anche una storia vera Il signor John Wayne Gacy nato a Chicago nel 1942 e morto nel Wyoming nel 1994 per iniezioni letale, sia stato responsabile di 33 uccisioni confermate su giovani ragazzi tra i 15 e i 21 anni uccisi, sodomizzati, torturati John Wayne viene anche ricordato come un clown perché non solo era molto rinomato nella sua cittadina ma sembra che andasse negli ospedali a intrattenere i ragazzi vestiti da clown la cosa non è correlata con gli omicidi è una cosa a sé perché il fatto che Stephen King usi un clown non è estremamente collegato con la storia di Gacy quando Gacy viene ucciso e gli chiedono le sue ultime parole lui gli risponde baciatemi il culo e il motivo è abbastanza semplice perché avrebbero potuto prenderlo prima avrebbero potuto controllare non l'hanno fatto avevano dei segnali belli, chiari e semplici non li hanno seguiti lo beccano per motivi di odore non l'aveva seppellito bene e quindi l'olezzo ha fatto capire che non era fognatura lui cercherà di far tramutare la pena di morte in detenzione a vita ma non ci riuscirà bene, adesso veniamo a parlare del libro in sé siamo in una cittadina del Maine di nome Derry che è detto chiaramente non esiste è appena finita l'alluvione e siamo nel 1957 le strade sono per lo più bloccate l'energia elettrica deve essere ancora ripristinata questo bambino di 6 anni però ha tanta voglia di far correre la sua barchetta per le vie ancora bloccate per cui non c'è traffico e quindi puoi tranquillamente prendere la tua barchetta e farla viaggiare su un ipotetico fiume che è la via di casa il fratello maggiore è malato purtroppo e gli dice senti vai a prendere di sotto in cantina la colla perché se non te la impermeabilizzo il gioco finirà subito almeno potrà navigare quanto vuole il bambino va giù in cantina e sa di suo che lì c'è qualcosa sa che c'è qualcosa che lo prenderà si tesoro che c'è? è il mio gatto eh se non accenderà la luce ma lui prende la colla e vola subito su dal fratello chitato di me hai fame? arrivo subito scusate eh scusate dicevo Giorgi ha solo 6 anni e non è un bambino come tutti i bambini vuole stare all'aria aperta il fratello gli impermeabilizza questa barchetta per fare in modo che duri il più lungo possibile e lui esce tranquillamente e la barchetta naviga in questi rigagnoli e eh fila e Giorgi Giorgi deve correre dietro fino a che la barchetta la prima volta curva e poi ritorna sul suo asse la seconda invece entra in un in una piccola fessura che serve per far incanalare l'acqua il piccolo si si abbassa e c'è questo clown che Giorgi Giorgi è già fatto che conoscesse il nome vuole la barchetta? si grazie ma io non devo dare retta agli sconosciuti io sono e si presenta io sono Pennywise e adesso non sono più lo sconosciuto visto quante palloncini e sente l'odore del del pop corn del del zucchero filato dice si che bello ti va a giocare con me? e lui fa si e nel momento in cui Giorgi gli dà la mano lui gli prende il braccio e gli alzi da fuori sentono un urlo impressionante un urlo straziante corrono tutti e Giorgi è già morto il piccolo Giorgi muore perché gli viene stappato completamente il braccio probabilmente l'urto e il resto l'urto e lo shock hanno fatto il resto dal 57 passiamo al 1985 c'è questo ragazzo gay nel 85 non è esattamente una cosa semplice dichiararsi gay davanti a tutti quanti questo ragazzo è alla festa annuale di Bangor e altri ragazzi probabilmente non contenti del fatto di vedere due uomini che si baciano e si tengono per mano decidono di fargliela pagare tra l'altro questo ragazzo come scusa usano il fatto che questo ragazzo ha vinto un cappello con un fiore in cima abbastanza ridicolo che che ondeggio ogni volta che cammina questi ragazzi e sono 4 o 5 mi ricordo perché alcuni guardano tentano alcuni tentano anche di fermare la cosa altri no lo prendono e lo gonfiano come una zampogna e lo buttano giù dal pontile alcuni due di loro però vedono un clown e questo lo sappiamo perché quando leggiamo il libro siamo direttamente catapultati nella stazione di polizia dove i ragazzi vengono interrogati singolarmente due di questi ragazzi di cui uno è un minorato mentale al quotiente che è tipo 65 poco più della forse neanche la sufficienza dicono che questo clown era sotto il pontile ha preso il ragazzo e gli ha mosso qui alla alla spalla e l'altro dice si l'ha trascinato e gli ha mosso gli ha tolto il lobo dell'orecchio e sono gli unici ma come fai a raccontare in un tribunale che c'è c'era un clown sotto il 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 sotto il pontile che ha preso a morsi un ragazzo è assurdo deve aver bisogno delle prove per confutarlo non puoi parlarne così e quindi non viene menzionato un ragazzo tutti e due anzi tutti e due i ragazzi dicono di averlo guardato dito negli occhi e dicono entrambi di aver visto gli occhi color acciaio e l'altro e uno di loro dice si stavo per andare giù ad aiutarlo aiutare questo ragazzo che ho burrato di sotto ma quando il pagliaccio si è girato io lì dentro ci ho visto Bangor e sono scappato tutti questi ragazzi tranne il minorato mentale subiranno il processo nessuno di loro verrà condannato a morte però il calcio lo subiranno per parecchi anni e anche questa è una storia vera bene la terza scena si apre su una famiglia felice lui è un ragazzo molto intraprendente che si è fatto da solo ha sposato una ragazza ebrea che aveva dei complessi di inferiorità che amava con tutto il cuore con cui ha formato una famiglia a cui stranamente diceva lei racconta che la prima volta che lei ha fatto domanda per andare a lavorare per trovarsi un lavoro suo maese fa no non questa questa perché qui ti prendono e qui no e dice la tartaruca non può esserci di aiuto ancora non so dirvi che cosa significa lo scopriremo più avanti va tutto bene ma non riescono ad avere l'amore è una meraviglia il sesso paradisiaco una cosa fenomenale ma di figli nemmeno l'ombra riceve una telefonata e noi sappiamo che le cose vanno male perché all'inizio la moglie dice lui non faceva mai il bagno di sera mai e non chiudeva neanche mai la porta quindi quando lui va a fare il bagno lei non ci fa molto caso perché è lì che rammenda è lì che rammenda poi non lo sente più sente l'acqua che gocciola lo chiama ma non risponde la porta è chiusa chiave urla e non risponde gli viene da scendere e dire aiuto a chiamare qualcuno ma cosa lo chiama a fare non può essere sicura di quello che è successo ha appena ricevuto una telefonata è andata a farsi il bagno la porta è chiusa va di sotto prendere la chiave di di scorta tutte numerate la prende sale fa scattare l'apertura entra e rimane sbicottita su marito si è tagliato i polsi e non solo i polsi e c'è una schizza sul muro il suo marito è morto e lei non sa il perché a tutti gli altri ragazzi che hanno abitato a derri e che poi scopriremo prima della fine della prima parte hanno fatto una promessa a 11 anni una promessa di sangue e normalmente a 11 anni fai delle promesse che difficilmente mantieni perché sei ancora un bambino questi ragazzi diventati uomini e una di loro e donne cioè una donna quando riceveranno la chiamata alcuni riusciranno a gestirla molto bene insospettabilmente bene perché lo scrittore chiederà che sua moglie non abbia capito molto di lui perché non gli ha raccontato molto lo scrittore è il fratello di Giorgi lei dice guarda che io ti ho anche se tu non mi hai raccontato molto io ti ho guardato ti ho guardato spesso e bene e certe cose le ho capite anche se tu non me ne hai parlato perché non volevi e poi tu nessuno parli non parli esplicitamente però è come un puzzle il primo po' lo metti insieme e lui capisce di fianco una donna di cui potersi fidare altri invece dovranno trovare una scusa per mollare baratti e burattini e tornare ad Harry un altro di loro dovrà mollare il marito che è un bastallo figlio di puttana violento e legnarlo fino a fargli perdere conoscenza quasi per poi svignarsi senza documenti senza calcio di credito con dei vestiti vecchissimi e una cosa che mi ha colpito che quando fanno i bagagli non portano i vestiti che usano nella loro vita attuale ma prendono vestiti vecchi che usavano a Harry che usavano quando erano più giovani che servono per qualcosa che ha a che fare con la loro vita precedente e fino a che non ricevono la telefonata loro non si ricordano né di Harry né di quello che è successo nel momento in cui la ricevono il terrore li sovrasta nervosi nevrotici tremano uno di loro addirittura berrà tanto di quel whisky che ammazzerebbe un cavallo e lui invece è lucido lucidissimo perché sa che quando tornerà lì non sarà affatto uno scherzo altra scena uno di loro è rimasto a Harry si è laureato all'università del Maine è tornato a Harry e fa il lavoro fa il bibliotecario nel 1985 lui ha già cominciato a fare delle delle ricerche sa che nel 1700 l'intera comunità di Harry è sparita non ci sono morti niente non ci sono resti non c'è più nessuno questa cosa è tornata ad anni fissi 27 25 24 anni ogni tot di questi anni lui si risveglia e uccide e spariscono tanti di quei ragazzi tanti di quelle persone che francamente lui rimane sbigottito nel chiedersi com'è che nessuno ha mai investigato sono troppe le persone che muoiono troppe perché nessuno investichi e nel 1975 del fatto di cui vi ho parlato prima ovvero della morte di quel ragazzo dal pontile lui richiama tutti quanti e tutti quanti stanno tornando indietro la seconda parte nel prossimo video spero vi sia piaciuto vi saluto e spero che stiate fresco adesso ciao ciao